Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay di Imperium Civitas 3 Allora, sono qui per continuare la scorsa partita Aspettate, com'è che si fa? Ehm, carica partita L'ultimo... Questo qua Vabbè, i primi direi che posso anche cancellarli Ehm, canc... no Non funziona Vabbè, lo faccio io poi per conto mio Ehm... Intanto cominciamo, va Ok, eravamo arrivati qui Delinquenza Ma sì, vediamo Come le cattive condizioni Qui c'è tutto Beh, cioè 50 di cibo 25 di preghiere Cosa del genere Cosa devo fare Ehm... Va bene E cosa posso fare? Oh, non è incominciata Cosa posso fare? Sturisco una prefettura Dai, madonna Ah sì, ma tanto c'è Ah sì, ma tanto c'è Non c'è acqua Non c'è mai qui Non ce la farebbero comunque Sì, va bene questo Dai qui costruite sta prefettura Madonna Ah, requiti, giusto Equiti Dai, dai, dai Costruiteli Cioè, costruiteli Dai No, non ce la fanno No, non ce la fanno Colpa vostra Cosa devo fare? Il locando E va bene Questa è andata Ma cosa ci posso fare? La ricostruisco Cos'era? Un campo di grano? Sì Credo di sì Non c'è un modo per evitare No, questo non posso ancora Non c'è un modo per evitare gli incendi Diceva Ah, stazione commerciale Cominciamo con gli scambi Che magari Va meglio Ehm, va bene Cominciamo a commerciare legno Quindi Cominciamo anche a produrre Già più legno No, ho sbagliato Lavorano i plebei Ok Sì Alla fine Fiorisce abbastanza bene Manutenzione 2 di legno Eh ma Un legno c'è No, tantissimo di legno Ho le segherie a livello 3 No, diverse E poi Vabbè Aspettate che devo Diminuire un po' la Cioè Devo aumentare La grandezza Così vedo meglio Qui Allora Dobbiamo arrivare fino là Qui cosa possiamo fare Qui possiamo fare Una bella arena Si Facciamo una bella arena Ok Ok Magari facciamo una bella Fontana Una prefettura Poi cos'altro Un tempio Ok E poi Un'insula Eh guardate Quanto stiamo Quanto stiamo costruendo 5 edifici E tanto Qui è tutto a posto Qui La vita di questi qui Dovrebbe andare Abbastanza bene Ah Ho capito Ah Il foro Si è potenziato Si Perché ora ci sono Questi alberi Mi sembra Credo O forse Si sono aggiunti Anche gli archi Si Le architravi Qua Sopra le colonne Si credo sia Un altro potenziamento Quindi Ah si Qui Giusto Allora Qui Cosa facciamo Recruta Gladiatori Va bene Facciamo questi Gladiatori La costruzione Di edifici È 5 volte Più rapida Addirittura Nuovo status Benedizioni I templi di Saturno Raddoppiano i loro Ricavi di denaro Perfetto Perché Ne ho Diversi Ne ho 1 Poi Qua 2 E qua 3 Tutti uguali Vabbè Qui ho altre rotte No solo questa Va bene Continuiamo ad andare su quella Allora Tanto guardate quanta legna ho Ne ho tantissima Ne produco 137 Ne consumo 52 Ah invece no La fornace Devo farmi almeno una fornace Ancora Facciamola Tanto non costa Non costa molto Anzi costa proprio poco Facciamola Provo le vuole L'edizione Troppo grande Qui Ok Sì L'ho già fatta Ah sì Giusto Perché la costruzione Degli edifici Adesso è velocissimo Ah qui ho fatto Ah vabbè Due prefetture No vabbè Coprono aree Giganti Quindi Qui facciamo delle fontane Perché le fontane Impediscono La formazione Che ne so Di Di malattie E poi Servono soprattutto Per Diciamo Per i vigili Del fuoco Diciamo così Per spegnere Ah sì vedete Arrivano Con I cavalli Carichi Di merce Ovviamente Vabbè ma qui ormai Siamo arrivati Facciamo così E tra poco Avremo la nostra Tanto Eh Come posso dire Tanto Tanto Voluta Mi era di Marmo Finalmente Allora qui manca il cibo Manca assolutamente cibo Quindi ci facciamo Una bella locanda Ci mettiamo Gli acquiti Ecco di nuovo Le cose che vanno Sviluppo accelerato Come mai è finito No vabbè Non riesco a vedere Infatti ora sono molto più lenti Le costruzioni Però Vabbè Allora le cattive Condi Eh lo so Perché Il tempio Non riesce ad arrivare Fino qua Quindi è poco L'attività ludica È abbastanza alta E tra poco Saliranno anche gli alimenti Visto che ho appena Costruito una locanda Sì ma voi Mi date fastidio Qui Non voglio avere L'esercito In casa Andate con questi qua No Mettetevi lì State buoni lì Voi intanto Bravi Andate qui E pregate Così i miei Incassi Si alzano Maledizione Ho sbagliato a costruire qua Questa insula Purtroppo Ah questa qua è L'altezza minima Non posso Farla diventare più grande Il mio foro Sta diventando Sta diventando abbastanza Ah giusto Le tecnologie Le tecnologie Qua c'è l'accademia Eh bisogna farli lavorare Questi qua Allora Mi permette di costruire Un'accademia di filosofia Bene Templi In onore di Giove Accademia di Ah si Accademia di filosofia Abbiamo visto Curia Io direi Maestri E magistrati Intanto aspettate Che salvo Ok Perfetto Per ora sta Andando abbastanza bene Uè Non ci posso credere No ma ancora questo Ma però adesso Guardate qui Che squadra Di pompieri Ti ho portato i secchi Bravi ragazzi Io ho costruito La fonda Ah no beh Ma non l'ho costruita io Ce l'ho già Allora Dai bravi Buttate secchiate d'acqua Addosso alle pareti Materiali come sono messo Ah il marmo Adesso Comincio ad avere il marmo Eh Eh si Comunque Ehm Cosa posso fare adesso Uh uh Ho preso fuoco anche questa Ragazzi Brigatevi Dai Ragazzi O Ah qua c'è un altro giacimento Ah sono due Ah io ne ho sfruttato solo uno Ho sbagliato Vabbè Vabbè Ehm Spettate un attimo C'è un attimo un problema Col mio computer Adesso spengo un attimo ma torno subito Tranquilli ragazzi Ehm Sì